A Caselle in Pittari nel corso del convegno nazionale di Federfarma sulle farmacie rurali si è parlato anche di sistema paese legato alla gastronomia con una serie di ristoratori del territorio. Sentiamo proprio uno di loro. Quello che stiamo cercando di fare in questo paese è di creare un sistema paese legato alla gastronomia, un marchio unico per la gastronomia, di modo che questo paese famoso per la gastronomia possa crearsi un marchio, un logo e possa svilupparsi in questo senso. Per questo noi tutti i ristoratori ci siamo uniti e fortemente abbiamo voluto l'organizzazione di questo convegno a Caselle in Pittari e quindi ci siamo organizzati in questo senso. Come si attiverà questo percorso tra i vari ristoratori? Tutti i ristoratori hanno, ognuno per le loro specificità e specialità, hanno organizzato degli antipassi e dei primi e ogni antipassi avrà una sorta di denominazione di origine, non solo per quanto riguarda il logo del ristorante ma anche la provenienza dei prodotti che, tengo a ribadirlo, sono tutti a chilometro zero, provengono tutti da questo sistema. Per questo si chiama sistema paese, cioè un sistema che produce i suoi prodotti, li trasforma e li offre in ristorazione ai clienti. Secondo lei questo territorio che ha come peculiarità, soprattutto l'entroterra, la gastronomia legata alla tradizione deve puntare maggiormente anche su questo per rilanciarsi dal punto di vista turistico? Assolutamente sì, abbiamo delle risorse incredibili, cioè delle risorse che vanno dal paesaggio alla cucina, all'ambiente e soprattutto la genuinità dei prodotti in un momento in cui si parla fortemente di dieta mediterranea, si parla di cucina in un certo modo, fatta in un certo modo, insomma, diciamo che sta cambiando completamente il sistema di mangiare delle persone comuni, per cui noi cerchiamo in questo senso di fare sistema, di organizzarci e di cogliere questa grande opportunità che questo territorio ricchissimo ci offre.